Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo LaFuma Access 40, uno zaino che vi preannuncio non mi è piaciuto, uno zaino che mi ha fatto veramente disperare nel provarlo, uno zaino in cui adesso vediamo i pregi e soprattutto i difetti all'interno della recensione completa. Inizio come al solito a parlarvi di questo LaFuma Access 40 dallo schienale. Allora, come potete vedere, lo schienale è praticamente semplicissimo, cioè è uno schienale che resta super attaccato alla nostra schiena, è uno schienale abbastanza imbottito, questo è da dire nel senso che non ha punti di pressione quando lo andiamo a utilizzare, ma vi assicuro che i materiali con cui è fatto e soprattutto la tipologia di schienale vi fa sudare veramente veramente tanto. Io l'ho utilizzato delle giornate autunnali, fortunatamente non estive e già in queste giornate autunnali ho sudato tantissimo, quindi lo schienale per me è completamente bocciato. Oltretutto non ha nessun tipo di regolazione, esiste solo questa taglia, quindi è così, così c'è e così ce lo prendiamo. E aggiungerei anche la fascia lombare, anche questa è messa qua tanto per, cioè non scarica nulla. Vi assicuro quando voi andate ad attaccare la fascia lombare e la staccate non sentite differenza sulle spalle, cioè tutto il peso greverà sempre e soltanto sulle vostre spalle. A livello di chili quanto vi consiglierei di portare? Io vi assicuro che con 8 kg già si fa abbastanza fatica, anche perché gli spallacci sono imbottiti ma sono abbastanza stretti, quindi non hanno una sezione così grossa per andare a scaricare il peso bene anche sulle nostre spalle. Secondo me 6 kg, proprio 7 al massimo, ma proprio massimo massimo 7. Per il resto tutta questa parte anteriore tra schienale e fascia lombare non mi è piaciuta per niente. Sulla fascia lombare troviamo inoltre nella parte di destra una taschina dove andare a riporre il nostro telefono per esempio, mentre sulla parte di sinistra non c'è praticamente nulla. Inoltre la clip davanti su quale andare a chiudere la fascia lombare è veramente super esile. Io ho paura che si spacchi in breve tempo, nel senso la stessa identica clip, un pochino più piccola, è posta qua sullo spallaccio per andare a chiudere la fascia pettorale e questa si è già rotta, proprio rotta inutilizzabile, quindi secondo me anche quella sotto farà la stessa fine a breve. Per quanto riguarda, visto come ne parlavo, la chiusura sulla parte pettorale, a parte essersi rotta la clip, ha fortunatamente lo strap aggiuntivo, quello elastico, in modo tale che si gonfi e si sgonfi in base al nostro respiro. Però davvero non vi dico nient'altro di questa parte anteriore, non mi è piaciuta e completamente bocciata a mio modesto parere. Continuo parlandovi di un lato, in questo caso vi preannuncio che i lati non sono simmetrici, quindi li vedremo entrambi. Allora di qua cosa abbiamo? Due fibie che non si possono aprire, nel senso si possono andare ad aumentare e diminuire la grandezza, ma non c'è una clip per aprirle. Quindi abbiamo una fibia inferiore, una fibia superiore col quale andare a diminuire la grandezza dello zaino e abbiamo una semplice tasca nel quale poter andare a mettere una borraccia. La borraccia è faticosissima riuscire a prenderla e rimetterla da soli, io ci ho provato ma siete al limite del slogarvi una spalla, quindi ve lo sconsiglio. E che altro? Da questa parte l'unica cosa che troviamo in più sono il porta bastoncini, singolo, nel senso ne abbiamo solo uno per entrambi i bastoncini e nient'altro. Qui secondo me non ci sta neanche una piccozza, quindi questo zaino non va bene per l'alpinismo. Continuo facendo vedere l'altro lato, così finiamo coi lati, troviamo le due clip con quale poter andare ad aumentare e diminuire la grandezza dello zaino, sia sopra che sotto. E poi invece di trovare una tasca come quell'altra arete, qua troviamo una tasca chiusa con questa cerniera, una tasca a soffietto che diventa abbastanza grossa. E questa può essere interessante perché possiamo portare del materiale all'interno in cui siamo sicuri che non lo andremo a perdere. Quindi questa soluzione potrebbe essere interessante, soprattutto perché non sono simmetriche, quindi non abbiamo entrambe queste, ma di là possiamo mettere una borraccia e di qua possiamo mettere qualche oggetto in più. Continuando, veniamo a parlare della parte anteriore. Innanzitutto, come potete vedere, qua abbiamo un'enorme tascona elastica. Qui ci sta benissimo dentro un secondo strato, qualche oggetto in più, anche la giacca è impermeabile perché è abbastanza elastica. Lo zaino si apre nella parte bassa con una cerniera in modo tale di poter andare a prendere gli oggetti che abbiamo messo nella parte bassa dello zaino senza dover stare a svuotarlo tutto. E infine, sempre nella parte bassa, troviamo due cinghue nelle quali possiamo portare esempio una tenda, un materassino, qualche oggetto in più all'esterno. Continuando, veniamo a parlare della parte superiore. L'apertura all'interno è molto semplice, di quelle classiche che si aprono e si chiudono con due mani, molto veloce. E altra cosa, troviamo due tasche invece nel cappuccio. La tasca interna, semplicissima, un po' piccolina, però molto semplice, può sempre funzionare e può tornare utile. Nella parte esterna invece troviamo una tasca che non è fatta orizzontale, non corre orizzontalmente sullo zaino, ma verticalmente. Può piacere, può non piacere, io ho notato che se smettiamo dentro tanta roba tendi un po' a saltare fuori gli oggetti. Inoltre, nella tasca superiore è riposto anche il nostro copri zaino. Sinceramente averlo in una tasca, quella superiore, neanche quella interna ma quella esterna, secondo me potevano trovare un punto migliore dove andare a riporlo. Probabilmente nella tasca interna o sotto, non volete sotto, ma almeno nella tasca interna, dai! Per quanto riguarda il comparto acqua, come vi dicevo, abbiamo la possibilità di mettere una borraccia o due, anche utilizzando l'altra tasca. Abbiamo il copri zaino e presente dentro anche la tasca andare a mettere una sacca idrica con la possibilità di far uscire la proboscide sul davanti, quindi da questo punto di vista lo zaino è abbastanza classico. Che altro dire, vi consiglio questo zaino? No, davvero, questo zaino non ve lo consiglio, non prendetelo in considerazione perché per come è fatto lo schienale io lo boccio completamente. Cioè questo zaino, sinceramente mi domando anche perché si è stato tirato fuori, perché è fatto così. Allora, fosse stato uno zaino d'alpinismo con la possibilità di avere lo schienale completamente attaccato alla schiena, l'avrei capito, avrebbe avuto il suo senso. Questo non è uno zaino d'alpinismo, viene venduto come zaino da trekking, anche perché non ha nemmeno le feature per poter portare attrezzatura d'alpinismo, quindi davvero questo zaino per me è bocciato. Se proprio proprio può andar bene come zaino da viaggio, in quel caso lì può essere abbastanza interessante, però è venuto come zaino da trekking, non come zaino da viaggio. Infine vi parlo giusto un attimo dei materiali perché comunque al di là delle clip davanti che mi si sono già rotte, il materiale con cui ho fatto qua dietro, secondo me è buono, nel senso io l'ho strusciato abbastanza questo zaino, non ha nessun graffio, penso che il materiale sia abbastanza buono quello con cui ho fatto la sacca dello zaino. Per il resto un po' le fibie e soprattutto poi i laccetti non mi hanno convinto, davvero questo zaino non mi ha convinto. Dato ciò ragazzi, io nella speranza di essere stato esorrente e esotivo anche per questo video, vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!